Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Il Palazzo del Quirinale, simbolo di potere e bellezza, con i suoi illustri abitanti, i suoi sontuosi saloni, le sue opere d'arte, i suoi preziosi giardini. Quirinale Contemporaneo è il titolo di questa importante azione di rinnovamento, intrapresa con convinzione dal Presidente Sergio Mattarella. Più di 70 straordinarie opere d'arte e di design, frutto dell'ingegno e del lavoro italiano, sono oggi inserite stabilmente nel patrimonio della sede della Presidenza della Repubblica. Non per sostituire, non per cancellare, ma per affiancare le altre opere in un'armonia di stili, di segni, di testimonianze e di presenze. Grazie. 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 Grazie.